Buongiorno a tutti, sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione per operatori olistico in costellazioni familiari col metodo Bert Hellinger. È un metodo che io ho adottato già nel 2002 incontrando Hellinger proprio perché sentivo la necessità di trasformare alcuni limiti, alcuni blocchi della mia vita e questa cosa ha avuto grandissimo successo e dal 2005 tengo gruppi tutti i mesi di una domenica al mese a Bologna con clienti esterni e da sette anni invece sto organizzando un corso di formazione proprio rivolto alle persone che sono prevalentemente persone che sono già impegnate in una relazione, in una professione legata alla relazione d'aiuto ma anche a quelle persone che vogliono approfondire attraverso questo metodo le tematiche che le legano al passato, sì perché questo metodo scioglie i nodi, i nodi che ci tengono legati ai nostri avi, ai nostri antenati e questo lo fa grazie a un metodo che è quello del campo morfogenetico. Il campo morfogenetico è un campo che ci accomuna tutti e che trattiene diciamo tutte le informazioni della nostra vita e del nostro sistema. Quindi attraverso questo metodo possiamo connetterci con queste informazioni e ricostruire situazioni sospese che sono rimaste in sospeso nel passato. Il corso si articola in 16 laboratori di una domenica, quindi 16 domeniche una volta al mese e in 8 sessioni di training con clienti esterni. Se vuoi intraprendere una nuova professione, stai già lavorando nella relazione d'aiuto oppure invece vuoi semplicemente approfondire le tematiche legate al tuo sistema familiare, puoi scrivermi alla grazie alla chiocciola costellazionifamiliaribologna.it o andare sul mio sito www.costellazionifamiliaribologna.it